Dalla tua dashboard, teleziona il wizard nel pannello di sinistra. Teleziona il tipo di formato che preferisci. Inserisci le informazioni richieste. Queste variano a seconda delle categorie scelte. Un'anteprima del tuo design è visibile sulla destra. Clicca su Generate Design e seleziona il risultato che preferisci. Puoi anche selezionare una delle creatività, cliccare su Edit ed effettuare le tue modifiche. Un'anteprima del tuo design e selezionare le tue modifiche. Un'anteprima del tuo design e selezionare le tue modifiche.